Io ho visto che in Vaticano ogni volta che una donna entra a fare lavoro in Vaticano le cose migliorano perché le donne sanno trovare una strada giusta, sanno andare avanti e adesso ho messo la Mariana Mazzucato nel Consiglio della Famiglia per dare un po', che è una grande economista degli Stati Uniti, per darle un po' di più umanità a questo. Le donne portano il suo, non devono farsi come i maschi, no, sono donne, noi abbiamo bisogno. E' una società che cancella le donne della vita pubblica, è una società che si impoverisce, si impoverisce. Uguaglianza di diritti, sì, ma anche uguaglianza di opportunità, uguaglianza di andare avanti, perché dal contrario si impoverisce. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS